Il Catania continua a lavorare agli ordini di Andrea Sottil in questo anomalo preambolo di stagione. La truppa rossazzurra, nonostante la barahonda causata dal nodo ripescaggi, sta lavorando con intensità nel centro sportivo di Torre del Grifo. I rossazzurri, tornati a lavoro lunedì dopo il vittorioso test col paternò di sabato scorso, hanno svolto ieri una doppia seduta, chiusasi con la classica partitella in famiglia. Viaggianti e compagni torneranno in campo oggi sul campo 1 della struttura etnea, che li vedrà impegnati in un allenamento congiunto con il città di Messina a formazione neopromossa in Serie D.